Siamo arrivati all'ospedale! L'amministrazione è proprio lì! Vado al pronto soccorso, signore. Devi andare lì! Esci subito dalla mia auto! Dov'è la mia destinazione? Esci subito dalla mia auto! Non so dove sono. Le sto chiedendo dove è la mia destinazione, se vuole gentilmente chiamare dove dovrei andare. Io ho messo la tua destinazione! Ha detto che sta qui la tua destinazione, ok? È finita! Vai fuori dalla mia auto ora! È il 17 secolo. Vai fuori dalla mia auto ora! Signore, è il... Vai fuori dalla mia auto ora! Perché mi sta urlando addosso? Perché non vuoi andartene dalla mia cazzo di auto! Ma non devi urlarmi addosso, signore. Non devi urlarmi addosso. 9, 1! Lo faccia. Lo faccia. Dai. Lei si sta comportando... Scendi da questa cazzo di macchina! Lei si sta comportando... Vai fuori dalla mia auto! Sto parlando con una chiatina! Scendi! ORA! Lei si sta... ORA! Non ha il diritto di urlarmi così. Io ti parlerò come cazzo mi pare! Stupida donna! Davvero? Sì, cazzo! Se lo farò! E ne ho il diritto! Dove mi trovo? Sei all'ospedale! Dove... Dove dovresti scendere dalla mia auto! Eh, salve? Per favore! La faccia uscire dall'auto! Dove dovresti... Dove dovresti scendere dalla mia auto!